Del bellissimo brano di Vangelo di questa terza domenica di Pasqua, che ci presenta l'apparizione di Cristo risorto a Pietro e ai discepoli sul lago di Tiberiade, vorrei soffermarmi su due particolari apparentemente insignificanti. Il primo, Pietro, dopo che Giovanni ha riconosciuto nello straniero che si trova sulla riva del lago Gesù, compie un gesto perlomeno strano. È nudo, si cinge la veste attorno ai fianchi e si getta in acqua. Normalmente avviene il contrario. Tutti sappiamo che nuotare vestiti non solo è faticoso, ma anche pericoloso. Perché Pietro si cinge la veste? Due sono le ragioni addotte. La prima pone in evidenza che Pietro compie lo stesso gesto di Gesù quando, nell'ultima cena, si cinge il grembiule ai fianchi e, lavando i piedi ai discepoli, rivela a loro che egli è venuto nel mondo non per essere servito, ma per servire. Allora l'Apostolo si era ribellato al gesto di Cristo perché contraddiceva al suo modo di concepire il Messia. Pietro è nudo perché gli manca il segno distintivo dell'amore, ossia il grembiule. Cingendosi i fianchi manifesta ora la sua disponibilità a seguire il Maestro nella via del servizio. Inizia così il suo cammino di conversione che caratterizzerà tutto il brano. La seconda posizione pone l'accento invece non sull'amore ma sul rinnegamento di Pietro. Egli, a causa del suo tradimento, si sente come Adamo ed Eva dopo il peccato nudo davanti a Dio. Nel Cenacolo aveva mostrato tutta la sua presunzione, ma poi si era ritrovato a doversi confrontare con la sua fragilità, i suoi limiti e anche la sua solitudine, e cerca di coprirsi perché vive questa verità in modo amaro e vergognoso. Nel libro della Genesi si dice che il Signore Dio fece all'uomo e alla donna, dopo il loro peccato, tuniche di pelle e li vestì, ossia si prende cura delle persone, non le lascia nella loro povertà morale e spirituale. Fin dalle origini dunque ci viene rivelata la misericordia e la tenerezza di Dio nei confronti dell'umanità. Allo stesso modo si comporta Cristo nei confronti di Pietro e di ciascuno di noi. Non appena l'Apostolo sente che quell'uomo sulla riva del lago è il Signore, pur con vergogna si gette in mare per abbracciare il suo Signore dal quale si attende di essere perdonato. Questa è la santità, cadere e rialzarsi. La seconda riflessione che vorrei fare riguarda la rete. Questa tirata a terra risulta piena di 153 grossi pesci. È difficile dare una spiegazione sul significato di questo numero. Secondo San Girolamo il numero corrisponde a tutte le specie di pesci conosciute a quel tempo. Quindi starebbe ad indicare una totalità. In quest'ottica il numero di 153 pesci indicherebbe l'universalità dell'opera della salvezza. Cristo è il Salvatore di tutti e dunque la salvezza non è riservata ad un popolo ma abbraccia il mondo intero. La pesca, non dimentichiamolo, è stata abbondantissima grazie a Cristo. E questo porta i padri della Chiesa a riconoscere che Gesù è il divino pescatore, venuto a tirare fuori l'umanità, ecco i 153 grossi pesci, dalle acque salate del peccato e della morte per portarla verso la terra della vita, verso la luce di Dio. Quando l'uomo, nella sua miseria di peccatore, accetta di essere pescato dalla rete, che è la Chiesa, viene poi perdonato da Cristo ed entra a far parte della sua grande famiglia, la quale è la casa in cui sono chiamati tutti i popoli per poter incontrare Cristo. Solo da Lui, infatti, l'uomo apprende con sorpresa e gioia di non essere il prodotto casuale e senza senso dell'evoluzione, ma di essere voluto, amato e necessario. Il Signore è innamorato di noi e, come dice Santa Caterina del Siena, è un fuoco d'amore che attende il dono del nostro cuore per rivelarsi come bene inestimabile per la nostra vita.